Grazie Giorgio, andiamo subito a vedere quelli che sono un po' i temi principali, naturalmente si parla dello scudo, antispare della BCE, ricatto del gas di Mosca, ma anche le ripercussioni ancora politiche dopo il voto elettorale, ancora invece il tema, quello più politico dettato da quello che accadrà oggi, almeno per quanto riguarda la via diplomatica in Ucraina, con l'arrivo di Draghi, Scholz e Macron. Ma andiamo con ordine, partiremo il mattino, divertente il titolo, chi di Putin ferisce, di Marconi perisce, questo perché la follia della confusione e discriminazione, delle confusionali discriminazioni all'arte, la scienza allo sport, Cardiff blocca il monumento all'inventore italiano perché fascista e antisemita. E poi la guardia dell'energia si abbatte sull'Italia, in particolare la contromossa di Puglia e Lucania, il taglio del gas della Russia, il gas non riduce la fornitura del 15%, aumenta i flussi verso la Cina, Eni abbassa il 40% la bolletta in Basilicata, Emiliano Edison per il mega deposito di gas di cui è fatto a Brindisi, ora è atteso il sì di Cingolani, così il racconto sul mattino.